Beh, allora, Paolo ci ha invitati oggi nel suo box, guardate che bella adesina che ha qua Radio Monte Carlo con il vecchio logo Rally dell'Elba, l'ottantesimo, di che anno era? Non si sa, insomma, poi le Olimpiadi di Mosca Radio Ok, Radio Ok, madonna La radio locale di Mera? Sì, sì, ma che spettacolo Amatori, maratona Ma sono bellissimi queste adesine qui Poi soprattutto, guardate qua, c'è il cerchio Cromodora della Lancia 3 Che era di tuo nonno Di mio nonno E questa è la tua? Questa è la mia attuale, sì Bellissima 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 Un bel traverso Una tia? No, no, un 1.9 GTS E riesci a guidarla così? Riesco a guidarla così? Come fai? Guarda, puoi vedere La mia faccia terrorizzata E quella del mio amico Che invece ride Si diverte Perché se andava un uro Tanto non era mica sua Ah Maria Gesù Quando sei Maria Dolores Se questo cerchio qui è una 1 No, forse è una Una panda Se vuoi saltartelo via Una panda Ah beh, se ti dà fastidio Qua c'è una BMW Bellissima No, una Honda Scusi, ma sono rimambito oggi Particolarmente Ma ti diciamo Ma che BMW è? Le figure Questo video qua Non lo rimuovo Perché così si conferma Che non so nulla Anche lei Moderna ma particolare Moderna ma bella Cioè il motore del VFR È molto BMW È molto BMW Comunque È 4W Fasatura variabile Bello E allora lo cariciamo sulla regatta Cazzo quando ho visto che avevi i cerchi Questa macchina oggi Ci sono dentro i cerchi della GTV I cerchi della GTV Per cui Forse qua sopra Qua sopra ci dovrebbe stare C'è qualcosa da di far No no Lì no Va bene Guarda qui Qui va bene Qui va bene Ce la facciamo Ah che roba Una regatta trevata Una trevi regatta Allora adesso aspetta che avete aiuto E facciamo un po' di space E facciamo un po' di space